80% di presenze turistiche negli alberghi anche per il ponte del 25 aprile, se non è sold out, poco ci manca. La stima arriva dal presidente dell'Associazione Abergatori, Domenico Santa Croce, che fa il punto della situazione sul turismo post-pascuale. Il calendario, decisamente favorevole per l'apertura della stagione, ha regalato un ponte quasi providenziale nella settimana che segue la Pasqua, da sempre una grande vetrina per Sulmona, quest'anno ancora di più visto il ritorno alla tradizione, i riti pasquali che hanno fatto riversare in città il turismo delle grandi occasioni. Se qualche gruppo ripartirò dopo le scampagnate di Pasquetta, le piazze e le strade della città non sono state poi così spente, anzi il ponte della liberazione è allungato, la permanenza negli alberghi o comunque ha tenuto alta la sticella dell'occupazione dei posti letto, non è stata una Pasqua come il 2019, ma comunque ha segnato una ripartenza per il territorio, per la stagione. Questo weekend abbiamo registrato un'ottima percentuale di affollamento, segno che il turismo non è andato via da Sulmona, rileva Santa Croce, spiegando che i treni storici continuano a fare da traino per il settore, oltre alle tradizioni storico-culturali del territorio, dalla settimana Santa di Sulmona, ritorese pari di Cocullo fino alla Madonna della Libera di Prato la Peligna. Dobbiamo metterci in mente che si cambia registro, dal turismo lento e naturale della pandemia torneremo al turismo delle grandi occasioni, ecco perché non possiamo farci trovare impreparati, continua l'albergatore. Chiaro il riferimento a quei servizi essenziali per i turisti, primo fra tutti il trasporto urbano, decine di corse sono state cancellate anche nel periodo pasquale, tutti invocano il turismo, soprattutto in campagna elettorale, ma poi nella quotidianità si fa fatica a pensare e a programmare una città per i turisti, perché Sulmona non è solo dei sulmonesi.